Il sindaco di Arco, Alessandro Betta, potrebbe finire in tribunale per gli schiamazzi di via Vergolano e dintorni, causati da alcuni avventori del bar Dolce Vita. Il giudice del tribunale di Rovereto ha emesso la condanna ai titolari del bar, stabilendo il reato di disturbo della quiete, provocato soprattutto da rumori antropici, ossia prodotti dai clienti. Al sindaco potrebbe essere imputato di aver trascurato le dimostranze dei residenti e di non essere intervenuto con gli strumenti a disposizione dell'amministrazione. Ieri il sindaco di Arco, Betta, ha convocato i titolari del bar e i residenti per un incontro a scopo di conciliazione, insieme all'assessore Stefano Miori, al responsabile dell'ufficio tecnico Bianca Simoncelli e con il comandante della polizia locale Marco D'Arcangelo. Proprio D'Arcangelo ha spiegato la posizione del primo cittadino, citato nella sentenza contro il locale. Perché il bar non cambia tipologia e diventa una pasticceria, dicono i vicini che si lamentano dei rumori. Tolga le slot machine e chiuda le 21, vedrete che verremo anche noi a mangiarci le brioche, hanno detto i residenti. Loro devono lavorare, noi dobbiamo vivere, sostengono. Certo hanno investito in quel locale, ma anche noi abbiamo investito nelle nostre case e oggi i nostri immobili sono svalutati fino al 40%, dicono. La musica si spegne alle 22 e dopo le 24 i clienti vengono invitati ad entrare e terminare la consumazione all'interno, ha commentato la titolare. La condanna è frutto anche di procurati e falsi allarmi. L'amministrazione ha assistito immediato il confronto, mentre fuori gli amici del Dolce Vita preparavano gli striscioni a sostegno dell'attività.